Ciao Luca, ciao Matteo, sono qua, sono nel vostro palasport, e voi non ci siete, ma sarò bravissima, non farò danni, niente, la prossima volta vi metterò via due biglietti, allora, quando veniamo da queste parti a suonare, mi raccomando, mi raccomando per oggi, no, che giocano oggi, hanno vinto, avete solo vinto? In Polonia, ok, allora bevete due grappe della Polonia, non so che, cosa ha? La schlivovis, la schlivovis, ok, impronunciate, bevete quello.